Ciao a tutti amici benvenuti su questo nuovo video, sono qui oggi per dirvi una cosa se voi avete voglia di giocare a Spearforce 1 Platinum Edition e volete giocare in italiano beh per farlo c'è un metodo molto semplice per prima cosa cliccate su Spearforce Platinum Edition, proprietà, final locali poi andate su Sound, Speech e qua comprerà questo file aprite questo file con WordPad e mettete Client Language uguale 4 cambiate da 1 a 4 in modo tale la cambiiamo dall'inglese all'italiano bisogna solo modificare questo file fatto questo il gioco sarà in italiano credo solamente le prime due campagne questa non penso proprio è così solamente le prime due campagne una terza no comunque questo è tutto vi giocare a Spearforce 1 in italiano basta fare questo spero che il video mi sia stato utile ciao ragazzi